ed ecco un grande piacere che andiamo ad aprire l'appuntamento di oggi con l'almanacco e con l'oroscopo 11 settembre i santi di oggi sono san proto e san giacinto ed eccoci alla forisma che ci ricorda in cima ad ogni vetta si è sull'orlo dell'abisso e per l'almanacco oggi non possiamo non ricordare l'attentato alle torri gemelle di new york era l'11 settembre del 2001 è tempo di oroscopo e quindi dall'ariete ai pesci 11 settembre buona fortuna ariete qualche imprevisto potrà ribaltare i vostri piani in ogni caso vi converrà a cercare di stare al gioco sfruttando quelle doti di adattabilità che sapete sfoderare al momento giusto attenzione ai peccati di gola toro non sentitevi in dovere di sacrificarvi alle altrui esigenze finireste per rovinare la giornata non solo la vostra ma anche quella degli altri gemelli non abbiate paura di sprecare energie oggi la vostra eccellente condizione fisica vi permetterà di essere quanto mai attivi e sempre all'altezza della situazione nei rapporti con il prossimo non siate troppo sbrigativi rispettate la sensibilità di chi vi è vicino cancro vi aspetta una giornata alquanto impegnativa che richiederà una vostra costante partecipazione spesso preferite andare a traino lasciare agli altri le iniziative mentre oggi dovrete essere voi a darvi da fare il vostro look ha bisogno di una buona rinfrescata leone anche se questa giornata non sembrerà offrirvi niente di particolarmente esaltante facendo leva sulla vostra inventiva potrete comunque viverla piacevolmente se farete la prima mossa troverete certamente molta collaborazione la forma fisica sarà molto buona vergine un po di tensione soprattutto per quanto concerne le vicende amorose la gelosia farà capolino e sarete voi a dovere sdrammatizzare la situazione misurate le parole con il partner per evitare errori di interpretazione ed eventuali equivoci bilancia se la giornata vi sembrerà un po vuota invece di limitarvi a constatarlo ed innervosirvi pensate piuttosto a riempirla prendendo le dovute iniziative potrete trovare più collaborazione del previsto se saprete essere convincenti controllate il vostro peso scorpione non mancherà di riservarvi qualche sorpresa specialmente per quanto concerne la vostra vita sentimentale giocate insistentemente la carta della dolcezza e avrete puntualmente partita vinta evitate ogni inutile sforzo sagittario anche oggi potranno sorgere piccoli ma ingombranti ed irritanti problemi in campo amoroso attenti a non esagerare nel vostro tentativo di minimizzare e sdrammatizzare perché la controparte potrebbe sentirsi presa sotto gamba capricorno l'estrema scorrevolezza della giornata potrebbe anche paradossalmente rendervi inquieti ed insoddisfatti decidetevi allora a prendere iniziative se quelle degli altri vi sembrano scarse ad andare a pieno ritmo comunque anche oggi saranno le faccende di cuore acquario concedete un po di riposo alla vostra fantasia soprattutto per quanto si riferisce all'amore il rapporto in questo momento va vissuto con estremo realismo con praticità siate sordi ai pettegolezzi pesci una vostra maggiore elasticità potrebbe migliorare il rapporto con chi non chiede di meglio che esservi amico qualche eccesso alimentare potrebbe mettere in crisi il vostro stomaco l'appuntamento con la fortuna con l'almanacco è rimandato a domani ciao a tutte e a tutti